Due hanno patteggiato 400 euro di multa, quattro hanno scelto il rito abbreviato e sette andranno al dibattimento, mentre le posizioni di altri dodici sono finite al vaglio della procura dei minori. Sarebbero stati una quarantina i giovani, tra i 18 e i 30 anni, protagonisti della maxirissa verificata sia ornavasso la notte del primo giugno del 2020. Il numero è relativo, l'identità è da accertare e costituisce la parte più importante. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.